Io sto collassando Giorgio dai lo sai benissimo E' la scusa migliore per rubarmi tutte le kill Allora vai Preparati che questo è il video Nonostante la stanchezza glielo metto nel culo in fretta Questo è il video Mamma mia ragazzi C'ho una pezza in questo momento disumana Giorgio sei bellissimo Anche tu sei bellissimo Marzone Che cosa omosessuale che stiamo facendo Tutti qua ci lanciamo? Oh si Rambo Yes my lord No ma non ci sarà che anche a Gen Ma non ho due piatti 025x No no tranqui Vengo già mangiato da 4 persone lo so già Fidati Allora io vado dove c'è il segnalino blu che mi sento protetto Io pure vado lì Appunto Perché c'è di te che mi sentivo protetto No 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 Torniato Torniato C'è un team che sta andando proprio lì Ma mannaggia al cazzo dimmelo tra nati Vado da vado qua dal ninja di bro Fra fra mi hai lasciato Eh c'è un team infatti ho virato subito come l'ho visto Ma io ero troppo basso per vederlo il team Marzo hai cura? C'è la bozzetta? No Eh segno una No due pistole Due pistole ma arriviamo Vado da te Vado da le bozzette però Allora è lasciato Non mi avevi detto niente Ma ti Ti sento frat Lancia granate ok Però non ho armi per sparare Aspetta Marzo sei da solo contro 4 Pazzino Mi ha tirato Il lancia Mi ha mille granate Eh si ma il c4 era il suo Sopra e sopra Vorrei averlo Ok preso il mio Tutte e due Arriva l'altro che corre Arriva uno che corre Marzo Da centromappa Da centromappa Due da centromappa ragazzi Bravi ragazzi Bravi boys Oh vedi che era manageable Ah Beh insomma Con l'aiuto di tre persone era manageable Marzo Stavamo tutti lì Oh ma ci ci succede non lo sento Ma qua lo sai che quando non parlo Quello che significa no? Oh micchi arano comunque non avvia Ok penso che sia arrivato Ti è arrivato il momento Dopo sette mesi del gioco Di capire che gli esplodivano eliminati dal gioco Cioè ormai l'avranno compreso Loro ti è spazio Marzo ci hanno salvato la vita Che è così via Eh ma se per questo A me quello mi ha ammazzato e mi ha fatto quel danno Perché c'ha i c4 Che sono un pelino sbroccati Beh prima erano peggio comunque i c4 Madonna Prima erano i reali Ma è che se prima erano peggio musuboni Io sto veramente male ma Eh anch'io c'è un c4 Qua c'è un tac verde se lo vuoi Eh sì sì non c'è non c'ho poco niente C'è la centrale C'è la gente a shift Eh io dove ho bisogno di un po' di scudino Stanno liftando Stanno liftando Be ready Eh Arriveranno anche qua Probabilmente Ma no forse vengono da noi ragazzi Siamo divisissimi Eh noi abbiamo un risk da prendere Se dobbiamo fuggire Non siamo noi che siamo ancora qua dentro Ecco il limite Ancora ora andiamo da loro Se mi prendo il tuo pompa Sparo con niente A vedere questa poca vita non è Oh ce n'è uno dentro shift Ragazzi andiamo dentro shift Noi stiamo arrivando Stanno sulla montagna Vedè mi hanno visto Però non credo che mi attacchino Guarda invece mi attaccano Invece mi attaccano Ce n'è uno sotto dentro shift Sì no no ma li vedo li vedo Ah là quello lì c'era Questa abilità Porteggi che stiamo arrivando Considera che io sto con le pezze Proprio al culo Vai vai che stanno Ciccio io Ciccio io Ciccio io pure a destra Stai attento Io appena un angolo Provo a fare l'headshot Merdi si è abbassato Ragazzi è la mia destra La casa a destra Anche sopra Uno non cado Allora sono parecchio danneggiati eh Che è quello che sta salendo Tirato giù quello Sì Caduto Pensateci voi Io tengo gli altri Buon amarzone Oh si armi Quante pozzette ci sono Eh non ci sono pozzette Davanti i power bianco eh Fatto Ok Manca uno Eh gli altri non li vedo Se no te l'avrei detto Sono ritratto Molto vicino a noi Questo è crepa Eccolo eccolo Ce l'ho davanti raga Dove? Eh shifty L'ho hitato un paio di volte Bro ti giuro non è una call Mi sto girando come una troppa Ah ok ora 116 immagino di sì Ma sopra sotto non capisco Sopra Sopra Ah ok Sopra 116 è l'uscita principale di shifty shaft Ah eccolo raga 156 E' tu omarzone Eh non esattamente perché C'ho il thompson Raga io ho qui uno scudo da 50 E delle bozzette E gli ho tolto 28 headshot Eh ci sono un ciancazzo Eh raga vi lascio tutto cadere giù della montagna Potete venire da prendere però Se vi lascio cadere tutto Io voglio andare a prendere il pezzo de merda Io si se vuoi si Tieni lascio cadere tutto Però devi mi sa Io sto con te Gli ho fatto 28 headshot Vieni vieni Sono pozzetto Eccolo Eccolo qua davanti a me Ma se le hai fatto scivolare un bot Sono sceso giù? Sì Ok Sì 200 headshot Allora Figa la zona Allora aspetta che Stanno ripet qua ripet qua l'affaccione Se ce ne sono due uno lo potremmo pure già prendere Andiamo a piedi a te ronan Sì sì mi prendo la pozzetta che mi ha sentito giù perché No vai Tira di tutta portate le due pozzette Vabbè noi prendiamo Prendiamo il ripet Vai 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 Ok le pozzette le ho prese Se ci vuole la R Andiamo a piedi noi due Ah ecco lì Sono da montagna a nord Sì 30 Però secondo me Anche gioco Vieni qua 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 Vai 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 usalo Vieni qua Mi stia maniando con il rest Andiamo a quelli sopra Occhio barre Andiamo in polo lontano Vai 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 Fatto e sotto di me vuole fare il summer skirmish non posso sparare non potevo sparare c'è un po di roba qua sopra io la giampa di noi che ci stanno quattro gas e power no gli ha distrutto tutto questo l'avevo scocchinato peccato 150 per c'è codona via fredda di due volte stato due volte quell'altro burger madonna che male che mi sono fatto ora l'ho colpito però ce ne stanno diversi qua sopra sono sopra i dati tranqui quali ma vedo il progettivo ha preso il rift portatile uno solo va bene via dai io ho fatto 70 eh quello non lo prendo però sono divisi mamma mia che cazzo sto facendo con la mira ragazzi dietro di noi dove stavamo prima stai scendendo c'ho io le bounzine se volete vieni da me vieni da me vieni da me regà perché dovrò andare a prendere quello stronzo lì davanti a noi qua l'albero ron sotto lì oh cazzo porca puttana one 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 da me ok l'altro lontano eh l'altro sta giù l'albero marzo perfetto fatti tutti andate regà prendete la bounce con la jump che ho fatto io dov'è? sta est est vai est vai est est corri est quella dimmi do curare eh vieni qua ti do una cura se vuoi rega io sto a faidà come sta il faidà bro? è pieno di gente ah fuori safe cos'è marzo dove stanno più o meno? c'è un cazzo di vita io di fronte a me cioè sono un paio a tomato temple e gli altri sono a nord est però era uno solamente in pomodoro vesti c'è il compagno di questo probabilmente probabilmente si io ci saranno divisi in due quelli ah li sento sparare si io a meno che non mi prende uno col cecchino che non ho visto io sono qua dentro ad aspettare voi ragazzi vieni da me che ti lascio la cura su qua qua è la base di questa scala ti lascio la cura sono qua sto arrivando si sta sparando lì davanti eh Joe? se avete razzi lasciateli le spalle che io ci ho lanciato granate con due cori guarda qua dentro ci sono tutti morti io ne ho altri te appena ci riuniamo Ron vieni qua aspetta che c'ho qua anche il medico vieni qua ho trovato il cicchino vabbè la madonna regali guarda che ti do ma che cazzo ti credi regali allora eccolo ce l'ho davanti secondo arrivo marzo ma tu sei a crozza ti preoccupa no bro scusami non fa niente eccolo scappa davanti a te io 5 secondi arrivo no mi sei bloccato il gioco è one one ma sai che significa? te lo posso giurare che è one si curate tutto cazzo cura quindi va ragazzi c'è era beh mi è servito subito dei danni così stupidi oh che cazzo stanno facendo cosa cazzo raga raga c'è il summer schermish davanti a me arriva il lancio granate mi è servito a me mi è servito a me aspetta occhio gioco con la cadera ahio fammi vedere se non c'è qualcuno che ci arriva dal fianco che ho poi sto facendo saltare tutto raga carpe diem sul momento ah e vai gli più vicino ma che cazzo stanno a fare quelli mannaggia ma raga ma che cazzo stanno facendo il summer schermish veramente raga ricordate che c'è un'altra gente han vinto troppo torneo cazzo allora io sono giù però uno ve l'ho vittato 105 a sinistra capito da voi eh uno è scelto marzo quello che c'è qua è qua preso uno l'altro ho lasciato one shot tanto finché sparano loro non dovrei essere io la loro mina vediamo se che fare Michael Jordan non ho cura per oggi no no ti lo cura ce l'ho è lì è lì Gio lo sto colpendo bravissimo non bravissimo non allora li ho visti 105 attimo qua c'è il baret d'oro Gio lo prendo io se vuoi c'ho l'altra 105 ragazzi 75 ora no ragazzi li è passati in me nord est davanti a te ninja di Beria a sinistra l'ho visto l'ho visto lì sotto esattamente sotto no uno è qua uno è qua raga uno è sotto proprio vabbè quello non stava bene no per niente ma anche l'amico uno è qua sotto proprio raga mi sembrava aveva costruito prima ma che buco da qualche parte si vedi bravi raga bravi raga minchia hola minchia ron come l'abbiamo patinato a quei due patinatissimi eh perché tu da un lato l'hai distratto tutti conta hai fatto dei bomb eh si loro stavano sparando prima te eh bravo è bravo abbiamo fatto due e due così proprio pulito pulito ciao